La BMW X6 nasce nel 2008 e inaugura una nuova tecnologia di vettore. È una X ed è un 6, quindi unisce il mondo di fuoristrada che abbiamo introdotto nel 2000 con l'X5 chiamando di Sport Activity Vehicle. Nel 2008 si evolve unendo l'aspetto di numero pari che in BMW è sportività e versione coupé di solito tant'è vero che l'X6 è proprio una versione coupé di uno Sport Activity Vehicle per questo motivo lo chiamiamo Sport Activity Coupé quindi unisce il mondo del fuoristrada, trazione integrale, posizione guida rialzata con il mondo delle vetture sportive, quindi prestazioni e anche un look più sportivo con appunto le forme tipiche di un coupé, soprattutto nella forma del tetto che scende a spiovente nella parte posteriore e della parte posteriore stessa che è raggiunta molto rialzata proprio di notare una sportività anche visiva non solo poi su quest'azione. Oggi a distanza di 12 anni si rinnova e arriva alla terza generazione di un modello che è stato di successo perché se a livello mondiale ha venduto quasi mezzo milione di esemplari in Italia ne abbiamo venduti 20.000 che per la tipologia di vettura è un numero di tutto rispetto. Oggi si rinnova completamente, si rinnova nella forma e anche nella sostanza quindi migliorano i contenuti digitali della vettura e cambia anche l'estetica perché la vettura cresce un po' in dimensioni ma soprattutto cambia leggermente le proporzioni si allunga e si abbassa quindi va a denotare ancora di più la sportività in quanto le forme sono più allungate e quindi denotano la loro stessa e più sportività. La vettura pur essendo una coupé e quindi una vettura tipicamente sportiva non inuncia ovviamente a alcune caratteristiche del mondo delle fuoristrada che sono la partecipità di utilizzo e anche la capacità di carico. Il baule è veramente importante, parte da 530 litri per superare i 1500 quando posso collicare tutti i sedili e anche all'interno è comodo per i 5 passeggeri che può ospitare. Non rinuncia però alla sportività anche nella parte interna, infatti i sedili anteriori sono sempre i sedili sportivi e a differenza dell'X5 presenta dei pedal nel tunnel centrale che permettono di appoggiare la gamba e quindi essere più saldi alla guida per una guida più impegnativa. Per la prima volta è possibile configurare anche la nuova BMW X6 con un pacchetto off-road quindi dotare la vettura di sospensioni pneumatiche ad aria su due assali abbinato a una gestione di tutta l'elettronica di bordo, quindi non solo della trazione integrale ma anche del cambio, della gestione del motore e di tutto quello che compete alla trazione dedicato al mondo del fuoristrada. Quindi è possibile configurare la vettura in quattro condizioni di guida, da via della fuoristrada, quindi neve che è sicuramente utile in queste condizioni ma anche sterrato, anche roccia e condizioni di minore aderenza del terreno per gestire l'altezza della vettura e appunto tutti i sistemi di controllo della vettura stessa per superare anche le condizioni più avverse. Giusto per dare un'idea, le sospensioni della vettura hanno un'escursione di 8 cm rispetto alla posizione standard quindi è possibile abbassarla di 4 cm o alzarla di 4 cm a seconda delle condizioni di utilizzo. La vettura viene offerta con quattro motorizzazioni, due benzina e due diesel abbiamo un 30D 6 cilindri biturbo da 265 cavalli per arrivare poi alla sportiva diesel, l'M50D che è una vettura anch'essa 3000, però in questo caso quadri turbo da 400 cavalli che rappresenta la sportività del mondo diesel. A questo si abbinano poi due motorizzazioni benzina, un 40i e un M50i un V8 benzina 4000 da ben 530 cavalli, quindi la sportiva di casa X6.